Dopo 20 anni, il sogno dei fondatori di RV System, Davide Rovesti e Agostino Vertucci, continua. Il 2018 inizierà con l'inaugurazione della nuova sede operativa. Inaugureremo alla grande la nostra sede a febbraio del prossimo anno. Ci trasferiremo in via Ruini, vicino alla Mediopadana, vicino al casello dell'autostrada, 1500 metri quadri. La nuova sede è solo il primo passo. RV System punta all'espansione in Italia e anche all'estero. Sicuramente essere nati in questo territorio, dove c'è questa grandissima densità di aziende, altamente competitivo, ci ha permesso di crescere sia come know-how sia come livello delle soluzioni. Non più di un mese fa eravamo presenti con il nostro stand ad Adipec 2017, la più importante fiera del mondo oil and gas, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. E abbiamo ottenuto un ottimo riscontro per quanto riguarda gli interessi sui nostri prodotti. L'assessore all'innovazione del comune di Reggio Emilia, Valeria Montanari, ha sottolineato il valore delle esperienze imprenditoriali, come quella di RV System, che si muovono nei settori più innovativi, sempre più essenziali per aumentare, ha detto, la competitività e l'attrattività di Reggio Emilia. La via Emilia è sempre più digital e in questa direzione vanno orientate le linee strategiche con l'obiettivo di diffondere cultura digitale. Il direttore di un'industria a Reggio Emilia, Giovanni Roveda, ha consegnato ai fondatori di RV System una targa per sottolineare l'impegno di 20 anni in un settore così giovane, ha detto Roveda, che evidenzia però opportunità di crescita molto alte sia in Italia che all'estero. Noi ci siamo posti un obiettivo molto ambizioso, quello di doppiare il fatturato nei prossimi 5 anni. E come faremo a fare questa crescita? Sicuramente attraverso le linee interne, sicuramente creando quelle partnership internazionali che ci permetteranno di conquistare mercati esteri e anche dalla creazione di partnership o operazioni societarie sul territorio nazionale per diventare più capillari, per essere sempre più vicini ai nostri clienti in regioni come il Piemonte, il Veneto e il Lazio. Il ventesimo anniversario della RV System è stato il focus di un evento nello spazio Ruote da Sogno di Reggio Emilia che ha riunito il team RV System, clienti e fornitori. Seguendo la traccia guida, ovvero la trasformazione digitale delle imprese, hanno portato contributi Alberto Bastianon, Senior Pre-Sales Manager di DLMC, Roberto Giovanni, Senior Distribution Manager di WMWare, Alessio Campoccia, Partner Development Manager di Amazon Web Services, Gian Piero Petrosi, Sales Engineer di Rubrik e Ugo Pelicani, Senior Channel Account Executive di Sopos. Il meeting a Ruote da Sogno è stata l'occasione anche per spegnere 20 candeline su una specialissima cupcake con tanta musica e con il cabaret di Paolo Migone, quello di Zegno. Ciao! Ciao!